Al Policlinico di Milano un intervento eccezionale. Un caso raro e complesso che anche i medici con decenni di carriera alle spalle non avevano mai visto. Miriam, useremo un nome di fantasia, è arrivata al Policlinico di Milano con un tumore benigno esteso che le comprimeva il cuore. Se ne erano accorti i ginecologi perché la bimba è ancora nella pancia. Come prima cosa, l'ottavo mese di gestazione è stata trattata con una laser terapia passando attraverso l'utero per bloccare i vasi sanguigni evitando che il tumore si ingrandisse ulteriormente. La massa premeva anche su trachea e polmoni. La paura è che Miriam, nascendo, non riesca a respirare. Per questo è stata adottata una procedura che consiste nell'estrarre il neonato solo parzialmente dall'utero e solo dopo averlo intubato lo si fa nascere completamente tagliando il cordone umbilicale. Nel momento della nascita abbiamo adottato una tecnica nuova di rianimazione che permette al bambino di stare ancora attaccato alla placenta e quindi avere lo scambio dei gas, dell'ossigeno con la placenta mentre noi intubiamo il bambino e garantiamo la pervietà delle vie aeree. Visto che reagiva bene in terapia intensiva, Miriam è stata operata soli sei giorni di vita per rimuovere la massa tumorale che era doppia rispetto al suo cuore. Insieme al cardiochirurgo Pome del Policlinico di San Donato abbiamo dovuto aprire il torace, aprire il sacco che contiene il cuore che è il pericardio, togliere la massa rispettando cuore e grossi vasi e poi richiudere tutto. E siamo molto contenti perché l'intervento è riuscito perfettamente. Miriam adesso sta bene, respira spontaneamente contiamo nei prossimi giorni, certamente prima di Natale, di mandarla a casa.